Ciao a tutte ragazzi, finalmente riesco a girare un nuovo video è un sacco di tempo che non riesco più a registrare per ragioni di tempo ma guardate che faccia che ho, sono stanchissima, super bianca non ho fatto ancora un giorno di mare e insomma sto aspettando le ferie come non so cosa infatti questa è l'ultima settimana di lavoro penso che sarà tipo, non so, la più lunga di tutta la vita proprio mia vabbè comunque, torniamo al video questo è il video dei saldi allora devo dire che ho comprato una mara di roba però a mio discorso posso dire che avevo bisogno di un po' di vestiti da cambiare perché ho cambiato la taglia e quindi quelli che avevo dell'anno scorso praticamente mi stanno grandi quindi non vanno più mi sono lanciatissima su vestiti ho trovato un sacco di buone offerte non vi faccio vedere tutto quello che ho comprato perché veramente sarebbe troppo però ho speso veramente poco nel senso tra i saldi tra comunque io non mi piace spendere tantissimo per i vestiti insomma a meno che non siano cose di qualità tipo, non so, scarpe però sapete che fare scarpe c'è l'occhio di riguardo e quindi insomma roba di tipo 15 euro, 10 euro, 20 insomma non è che non ci spendo tantissimo vi faccio vedere quello che ho acquistato la maggior parte delle cose le ho preso online su Zalando ho fatto 2500 ordini infatti poveracci penso c'è il corriere che praticamente arriva ogni giorno a casa c'è mio padre e non so, penso mio padre un pochino si vergogna di avere una figlia che fa 2500 ordini però vabbè però veramente ho trovato dei prezzi assurdi super super vantaggiosi se vi interessa qualcosa vi faccio vedere e c'è ancora vi lascio sempre il link nell'info box così date un'occhiata nel primo giorno dei saldi cosa ho fatto? sono andata da Zara perché Zara è il posto dove secondo me conviene guardare all'inizio e alla fine alla fine perché uno trova super offerte robe super scontate all'inizio perché trovi tutte le taglie io non ho trovato un granché nel senso che non mi piaceva in realtà quello che c'era e sì le taglie abbastanza insomma sono andata in una Zara abbastanza grande quindi le taglie c'erano però non mi piaceva quasi niente però ho visto così è stata una specie di illuminazione mentre stavo uscendo una sorta di spolverino che alla fine ho acquistato allora il non so che non si vedrà niente mi rendo conto però date di fantasia poi se lo trovo vi metto magari l'immagine che c'è sul sito allora è fatto in questo modo è tipo blu non ho capito ancora se è blu o se è nero comunque ha la zip davanti ha il cappuccio e poi la cosa che mi piace è che sul finale è fatto così quindi c'è tipo delle balze alla fine sta veramente veramente carino se avessi tempo vi farai vedere anche come mi sta ma mi impiccio cioè questo potrebbe dire aumentare le ore di come si dice di come si dice quando uno deve di montaggio a questo video e quindi questo video probabilmente potrebbe uscire non so al ritosso dei saldi invernali quindi magari vi evito questa cosa quindi molto molto carino questo era scontato da 39,95€ a 25€ più o meno è veramente veramente carino un po' di altro ho fatto ho fatto un giro alla coin nella coin ci sono un sacco di marchi che mi piacciono anche lì non ho trovato un granché però ho preso una magliettina per tutti i giorni insomma da mettere così perché è un po' sportiva insomma ne avevo bisogno niente di che pagata tipo 6€ quindi figuratevi è di questo color fragola che mi piaceva molto e ha soltanto una scritta qui quindi è molto molto graziosa anche questa con i jeans si può fare zalando cosa ho preso mi sono presa questa maglia della desigual che l'avevo vista in foto mi piaceva un sacco è semplice è bianca manica corta però ha tutti questi fiori qui davanti e nella parte dietro qui e poi è bianca liscia semplice scende giù normale questa pure era super scontata mi sembra di averla pagata 29€ invece di tipo 50€ forse non lo so secondo me desigual ha dei prezzi spropositati per la qualità della roba quindi comunque insomma io prendo le cose che compro le compro sempre a saldo quindi l'ho trovata 29€ mi piaceva poi io ho un amore per i fiori mi piacciono un sacco quindi presa subito per rimanere in terma fiori e faccio vedere quest'altra maglia che ho preso questa ha la manica a tre quarti larga mi piaceva un sacco la fantasia dietro è fatta in questo modo quindi ha un bello scollo e c'è tipo il nastrino che si può legare che rimane giù lungo la schiena questa è di una marca che si chiama Jacqueline de Jong non so se qualcuno di voi la conosce c'è anche su Zalando però io questa qui l'ho comprata in un negozietto che rivendeva questo brand è un brand che mi piace un sacco c'è un sacco di anche t-shirt ho comprato anche dei pantaloni molto leggeri per l'estate vi dicevo che ho rinnovato un pochino il guardaroba e devo dire che mi piace da morire è proprio uno stile è proprio il mio stile con i fiori nero e basta insomma mi piace mi piace molto ho fatto in giro anche da Pinky Pinky pure è un negozio che in realtà non mi fa impazzire per le cose che ha però ogni tanto ci trovo qualcosa di carino non so una magliettina e una gonna cose così però è raro però diciamo che ai saldi ci faccio sempre un giretto perché non si sa mai a questo giro ho preso una t-shirt che in realtà la volevo prendere anche nera ma nera non c'era più troppo però vabbè non fa niente l'ho presa di questo color cipria e la particolarità è questo decoro che ha sulle spalle su entrambe le spalle è veramente veramente carina la maggior parte delle cose le ho già utilizzate quindi le avete preso in setichetta però veramente veramente carina è questa pagata tipo 7 euro mi sembra veramente molto insomma è un prezzo molto accessibile sempre da Pinky ho preso un paio di pantaloni allora questi mi sono innamorata del colore perché veramente ho detto oh mio dio il colore è bellissimo sono questi qui di questo colore viola no non è fucsia è tipo lì sembra più magente in realtà è leggermente più cubo veramente veramente belli pagati soltanto 9,95 euro e niente sono dei semplici skinny insomma così da tutti i giorni con una magliettina nera sto a posto insomma un colore bellissimo mi piaceva un sacco quindi ho pensato proprio di non lasciarmi di sfuggire per rimanere in tema di jeans mi sono comprata altri due paia di jeans allora un paio neri io prendo quasi sempre i jeans della Holly mi trovo benissimo sono comodi sono morbidi e anche se all'inizio sembrano un pochino strettini in realtà basta portarli mezza giornata che si adeguano benissimo e risultano a posto insomma è sempre meglio prenderli un pochino più piccoli che più grandi di questa marca costano poco e appunto questo è il risultato questi sono neri semplici fatti in questo modo dietro hanno sono della linea push up in realtà non credo che pushino troppo chissà che però sono carini la cosa che mi piace è che praticamente di questi modello sia di questo che di quello che vi farò vedere c'è la possibilità di prenderli in base anche alla lunghezza della gamba io sono abbastanza non sono altissima quindi io quando compro dei jeans mi devo sempre andare a fallorlo e questa è un po' una scorciatura mentre invece questi qui sono disponibili anche nella taglia 30 di lunghezza della gamba e quindi praticamente mi vanno precisi non serve nessun ordine nulla quindi questi qui neri e questi pagati 12,50 euro perché erano al 50% stessa cosa questi altri che sono della stessa linea questi ancora non li ho utilizzati infatti hanno ancora l'etichetta attaccata e fatti in questo modo quindi vedete il sedere com'è il sedere la parte dietro e anche questa è stessa cosa praticamente la taglia a sia la taglia del girovita che la taglia della lunghezza della gamba insomma quindi super super comodi sempre da zalando ma ancora zalando e ho preso anche altra roba cioè lasciamo a perdere ho trovato questa maglia del pigiama veramente irresistibile e l'ho presa fatta in questo modo è invernale è della Ankel Muller questo marchio qui che a me piace un sacco dovete sapere che io ho un problema con l'intimo mi piace un sacco comprare tipo reggiseni mutandine e cose varie c'è un tipo di tutti i modelli di tutti i tipi di tutti i colori e questa marca ha un sacco di cose molto molto carine quindi questa qua è la maglietta del pigiama appunto con leggings nero insomma è carina molto questa l'ho pagata 10 euro sempre in sconto quest'altro jeans che è un altro di questi acquisti che ho fatto in un negozietto dalle mie parti però di questi li devo far l'orlo perché sono della misura regular insomma e la cosa particolare di questi jeans sono le tasche davanti che hanno tutti questi decori con perle pietre perline quindi questa è la cosa principale di base sono dei jeans semplicissimi quindi e questi purtroppo devo aspettare per metterli perché appunto mi serve far l'orlo per quanto riguarda le scarpe sempre suddalando ho acquistato due paia di scarpe allora primo paio perché diciamo era un po' che ci pensavo che mi piaceva l'idea di avere dei sandali estivi dorati io non ne avevo però non ne volevo un tipo elegante ne volevo un tipo un pochino da mettere tutti i giorni con dei jeans ho trovato questi qua che sono dei sandali che sono abbastanza alti però insomma hanno comunque un paio di centimetri di plateau sono super super comodi hanno vedete sono fatti così sono tipo un dorato platino hanno il laccetto qui alla caviglia e sono veramente veramente carine queste qui sono della Olli questa qui è la marca e queste le ho pagate mi sembra sui 20 euro quindi anche queste scontate l'altro paio di scarpe che in realtà non mi serviva però è stato diciamo non dico tanto uno sfizio perché comunque sono delle scarpe che secondo me possono comunque essere utilizzate in tantissime occasioni anche un pochino più importanti sono della Buffalo questa è la marca erano scontate anche queste al 50% quindi da 70 euro le ho pagate sui 35 e sono in questo modo spero si riescano a vedere sono tipo Chanel con la punta leggermente a punta ecco e con un tacco abbastanza comodo non altissimo e mi sono piaciuto un sacco e in realtà volete sapere che io su Zalando ho una lista di desideri di tipo 480 robe e quindi mi arrivano le mail quando queste cose vengono scontate quindi lì per lì che fai ti fai prendere dalla cosa poi molte volte non ce la taglia ma se la richiedi poi ritorna quindi riesci ad acquistarlo insomma entri in un loop che mi rendo conto essere un po' deleterio però vabbè si sa insomma e quindi niente ragazzi questo è tutto in grandi linee quello che volevo farvi vedere per quanto riguarda l'abbigliamento sono molto sicura che vi farò un altro video non so se adesso visto che la batteria è scarica quindi vabbè un altro video con il resto dei saldi perché ho fatto anche un ordinino da sephora poi oggi c'è il prime day quindi ho comprato una roba su amazon che vi farò vedere quando arriva quindi magari aspetto che arriva quella che vi faccio aver ottenzione più altra roba presa su zalando a livello di accessori e vabbè basta ragazzi cioè io ora prometto che mi fermo anche perché comunque mi fermo ecco lo prometto vabbè basta niente io spero di avervi tenuto compagnia fatemi sapere voi cosa avete comprato quei saldi se avete fatto il video dei saldi ditemelo così lo fate a vedere ciao